E' morto per cause naturali, Mehram Karini Nasseri, iraniano, rimasto bloccato per 18 anni nell'aeroporto Charles de Gaulle di Parigi, che aveva ispirato The Terminal, film di Steven Spielberg con Tom Hanks. Si è spento nel Terminal 2F, era stato espulso da diversi paesi europei prima di arrivare in Francia a risiedere in aeroporto, alla fine aveva ottenuto un permesso di soggiorno, qualche settimana fa è tornato in aeroporto dove si è spento.